Edder, Mech, Pallister. Un uomo di chiesa con i controcoglioni. Eh, signori, purtroppo era uno dei papabili, sarebbe dovuto diventare vescovo di Civitavecchia, ma poi la chiesa che ha deciso di inviarci qui a Civitavecchia come pastore Monsignor Mallucci. Però io ritenevo Monsignor Pietro Vittorelli sicuramente più idoneo a guidare questa diocesi. Purtroppo, signori, io a quei tempi feci una radiestesia e vidi che appunto non sarebbe stato lui il nuovo vescovo di Civitavecchia e così fu, non era lui. E niente, signori, oggi questa brutta notizia che lascia a sgomenti il sensitivo all'occhio in primis, perché io quando una persona vale, se una persona vale, e io quando questa persona muore ho dispiacere. Perché è una persona. Monsignor Pietro Vittorelli era una persona che valeva. Era un uomo di chiesa, capace. Poi, oltretutto, è stato anche accusato, ingiustamente, di fatti gravi, che poi è stato anche assolto con formula piena per non aver commesso il fatto. Con questa, diciamo, amara notizia, il sensitivo all'occhio, auguro a tutti voi un buon proseguimento di serata. Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale. Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale.